Ben ritrovati da Simone Nardone. Covid-19, ancora tanti i numeri dei nuovi positivi in provincia di Latina, 254 i nuovi casi riscontrati dall'ASL e inseriti nel bollettino di ieri. Davvero tanti anche quelli del sud pontino che tornano a livelli pre-restrizioni, ben 123 nelle ultime 24 ore. Tra questi spiccano le cifre di fondi con più 30, 26 a Formia, 21 a Terracina, 17 a Gaeta e 12 a Itri. Unica nota positiva è il numero importante di guariti nelle ultime 24 ore, ben 2165. Purtroppo si aggiungono al bilancio altri quattro decessi in provincia. Il sindaco di Terracina, dopo 53 giorni risulta negativa al Covid-19, lo ha comunicato attraverso i propri social la stessa prima cittadina, Roberta Tintari, che ha spiegato come sia stata un'esperienza che lascia il segno. Parole accompagnate da un pensiero ai tanti che stanno ancora combattendo contro il virus e facendo sapere ai propri concittadini che a breve tornerà nel proprio ufficio in comune. Nella giornata di ieri molti pendolari della tratta Roma-Napoli via Formia si sono imbattuti in un problema legato alla questione del sovraffollamento dei treni. Nello specifico, come riportato dal portale h24notizie.com, alcuni viaggiatori sarebbero stati fatti scendere nella stazione di Cisterna di Latina perché il mezzo era troppo pieno. Brevi ritardi si sono accumulati sulla tratta, ma quel che si evidenzia è come il problema dei trasporti che ha amplificato l'espandersi dei contagi in autunno torna a farsi vivo anche in questo inizio 2021. La questione delle aree per lo stoccaggio dei rifiuti in provincia continua a tenere banco nel dibattito politico e mediatico. Nei giorni scorsi la sentenza del Tar che dava la possibilità al Ministero dell'Ambiente di decidere per l'individuazione delle aree. Poi l'incontro della conferenza dei sindaci che, su proposta del Presidente della provincia Carlo Medici, ha avanzato l'ipotesi delle individuazioni di due aree, una a Latina e una a Fondi. Divisa la conferenza, molti favorevoli alla proposta, contraria l'amministrazione di Fondi che ha chiesto tempo per poter valutare. Causa condizioni meteo, non delle migliori, sono stati annullati alcuni collegamenti con le isole pontine. Nello specifico, quest'oggi non è stata effettuata la corsa dell'unità veloce Ventotene Formia delle ore 6.45 e non verrà effettuata l'altra corsa, sempre veloce, quella da Formia-Ventotene delle 15.30. L'area dell'ex stazione è in vendita a Gaeta. Il deputato Raffaele Trano chiede un'ispezione. La vendita era avvenuta a gennaio del 2020 quando il Consorzio Sviluppo Industriale del Sud Pontino ha venduto ad una società immobiliare privata l'area comprendente oltre 100 posti auto, un immobile già adibito a stazione ferroviaria che attualmente ospita anche un bar. Tutto venduto per 409.000 euro. Trano, in una nota, fa sapere di aver presentato un'interrogazione ai ministri dell'Interno e dell'Economia chiedendo di valutare anche l'invio degli ispettori della Ragioneria dello Stato e dell'Ispettorato Generale di Finanza. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci vi ricordiamo come sempre che potete visitare il nostro sito web radiociviteinblu.it e trovare tante altre news. Per questa edizione è tutto. Un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civite in Blu.